Ben ritrovati, buon lunedì e buon Crypto Monday. Se questa schermata di inizio video vi sembrerà diversa da quella che state guardando, o comunque troppo diversa da quella che state guardando in questo momento su coin360.com o su altre schermate di ranking e di prezzi, è perché questa volta, essendo in viaggio, questa schermata di prezzi l'ho registrata con un po' di anticipo. Quindi ci potrebbe essere del delay dal punto di vista della price action. Ma tutto ciò che riguarda invece la sintesi degli eventi più importanti della settimana che abbiamo appena concluso e quello che potrà essere invece il periodo che si apre da adesso in poi, è ovviamente abbastanza sincronizzato perché il time frame è irrilevante su un giorno o due. Quindi quello che abbiamo visto nella settimana che si è appena conclusa è stato un ritorno di BTC ai 60.000 dollari, come sto facendo anche vedere in schermo. E questo ha portato buon umore a livello di prezzo su tutto il resto degli asset. Vediamo in particolare rispetto a sette giorni fa su Bitcoin un più 10%, su ETH un più 8,48%, ma tutto il resto, meno male, risponde allo stesso modo. E ci sono delle novità importanti. Andiamo a vedere anche su CryptoBubbles che ci aiuta per guardare quegli asset che sono cresciuti di più in questa settimana e al di là di qualche meme coin, vediamo che comunque ci sono rialzi importanti anche in top 10 con ad esempio BNB che fa quasi un 12%, così come WorldCoin che non è top 10 ma è un token molto rilevante perché c'è una notizia di cui tratterò più avanti, sui più 21%, Link più 14%, Quantum al 29% addirittura e FET al 25%. Su CoinMarketCap vediamo una capitalizzazione che torna sopra ai 2.000 miliardi di dollari con 2.1 trillion in questo momento e una dominance di Bitcoin al 56.5% con ETH che continua a scendere ed è al 13.9% di dominance. G-Way che comunque si mantiene ottimo e Fear and Creed Index che si alza, quindi da uno stato di paura si riporta verso la neutralità. Immagino che con l'apertura della settimana, se le cose continuano così nel weekend, questo potrà essere addirittura neutrale o positivo. Nella top 10 vediamo appunto BNB che fa una percentuale ancora più alta del 10%, XRP anch'esso più del 10%, Dodge a quasi 15%, Ton non a posizione un quasi 25% con l'annuncio della funzionalità per creare degli NFT, degli sticker nell'applicazione Telegram e Ada che fa un 11%. Questi sono i risultati più rilevanti. Andiamo a vedere le finestre temporali su Bitcoin che rispetto a sette giorni fa fa un 10%, rispetto a un mese fa c'era un buon 3%, quindi abbiamo recuperato a livello di prezzo quello che era stato il calo di agosto e appunto anche inizio settembre. Un anno fa il prezzo era 26.600 dollari, essendo comunque settembre un mese tendenzialmente non ottimale per i mercati e vediamo quindi un più 128% con l'attuale prezzo a 60.000. Passando all'analisi tecnica possiamo vedere che alcuni livelli di prezzo sono tornati in verde, quindi positivi, e possiamo definirli adesso dei supporti. Per molti analisti essere tornati sopra alla cifra e alla soglia psicologica dei 60.000 dollari è importante, anche perché potrebbe far partire un trend rialzista. È per me ancora più importante vedere che il prezzo, e la candela, in questo caso di sabato 14 settembre, è superiore alla media mobile semplice a 50 giorni. E in questo momento questo livello sta facendo proprio da supporto, quindi il prezzo si trova tra la media degli ultimi 50 giorni e quella degli ultimi 200, che in questo momento è la resistenza vera e propria a 64.000 dollari. È qui che si potrebbe invertire il trend. Se dovessimo vedere un finale di settembre, soprattutto dopo il 18 settembre, quando molto probabilmente verrà annunciato un taglio sui tassi di interesse, e quindi un uptober interessante, che supera e fa vedere una price action oltre la media mobile degli ultimi 200 giorni, a quel punto potrebbe davvero partire la bull run per bitcoin, quella che attendavamo da quando praticamente c'è stato l'alving. Vedremo se sarà così. Ovviamente i fattori sono tanti, la price action è solo una delle variabili. In particolare quello che sta condizionando di più il mercato è la domanda che arriva lato ETF spot. Infatti questo rialzo è prevalentemente dovuto al fatto che la chiusura di venerdì è stata positiva proprio sugli ETF. E questo, anche se a posteriori, lo possiamo confermare quasi sempre. Dopo le fuoriuscite della settimana precedente, che hanno portato infatti il ribasso del prezzo, vediamo che in particolare su Fidelity ci sono state giornate dove ci sono state fuoriuscite importanti, 162 milioni, 149 milioni, questo è il 3 e il 5 settembre rispettivamente. Nella giornata del 13 settembre, quindi di venerdì, l'ultima giornata di transato sui ETF della scorsa settimana, c'è stato un inflow positivo su Fidelity di 102 milioni, il più alto dell'ultimo periodo. Non si vedeva da più di un mese. Anche ARK ha visto quasi 100 milioni, anche se BlackRock è stata ferma al palo. Gli altri hanno visto degli inflow positivi. Non ci sono stati outflow neanche da Grayscale, che addirittura vede un 6.7 milioni in inflow positivo, questa è una grande novità. Abbiamo appunto 263 milioni totali di inflow positivo che portano il prezzo a superare nuovamente i 60.000 dollari. Al momento questo è il catalizzatore del prezzo, ed è evidente che sia così. Questo lo faccio vedere per tutti quelli che ancora dubitano sul fatto che gli ETF siano influenti su Bitcoin. Ad oggi, purtroppo, per fortuna, è così. Per quanto riguarda ETH, situazione di equilibrio che porta un netto positivo nella giornata di venerdì a 1.5 milioni, quindi poco. Ma in generale è una settimana dove le fuoriuscite hanno compensato le entrate e, difatti, il prezzo non è salito più di tanto. Torniamo a guardare su CoinMarketCap, ETH che fa, tra virgolette, solo un 6% e lo fa di slancio seguendo quello che è il resto del mercato. Quindi, ancora, gli ETF su ETH non sono decollati, prevalentemente perché c'è Grayscale che deve ancora far fuoriuscire tanto. Quindi, la mia visione è questa su ETH. Per quanto riguarda gli ETF, tutti sanno che Grayscale ha ancora tanto da distribuire e non c'è un flusso di acquisto. Ma se dovesse partire un bull market con una domanda generale verso questo settore, quindi che viene sia da istituzionali che da retail e non solo tramite ETF, a quel punto i prezzi inizieranno a salire e anche sugli ETF vedremo un interessante flusso di acquisti e di vendite che una volta che vedrà ribilanciata la fuoriuscita da Grayscale porterà una price action molto importante anche su Ethereum, in quanto Ether comunque è un asset che inflaziona, se inflaziona, inflaziona pochissimo. Parlando di inflazione, non a caso, vi faccio vedere quello che è stato il riscontro sul CPI per quanto riguarda il mese di agosto, quindi quello che, diciamo, la parte formale considera il dato sull'inflazione negli Stati Uniti ed è stato peggiore dell'aspettativa. Infatti c'è un dato più alto di quello che si pensava poter essere, l'inflazione ufficiale, l'indice di inflazione è più alto del 3%, questo porta a rinforzare la possibilità che ci sia il taglio sui tassi, che ormai è dato quasi per scontato, questo appunto il 18 settembre, ormai manca poco, e potrebbe portare davvero una svolta sui mercati. Il taglio sarà probabilmente dello 0.25, ma vedremo se arriverà magari anche un ulteriore livello, quindi magari uno 0.5. In realtà molto probabilmente ci saranno diversi tagli in diverse fasi di 0.25 e questo porterà continuamente uno stimolo al mercato. Analisi di questo e di come potrà andare il mercato in generale nel settore cripto e del perché l'Alseason fatica a partire e anche scegliere il dubbio se questa arriverà mai, verrà trattato in un webinar dedicato che abbiamo deciso di fare con Filippo Angeloni su Coinsquare. Lo faremo andando ad analizzare i dati, non sarà la classica live pubblica con Ask Me Anything, faremo un focus dedicato a questo argomento che sta a cuore a molti e quindi anche la situazione di vedere come sono posizionati i capitali e come potrebbero arrivare in questo settore. Il webinar sarà chiamato proprio Alseason. Alcoin e Alseason non sono termini che adoro, ma fanno capire il senso della cosa. Tutti abbiamo in testa quello di cui si parla. Per non perdervi l'evento che sarà in diretta, in forma gratuita, vi invito a registrarvi tramite un'email a questa pagina coinsquare.com slash altseason. L'evento sarà il 3 ottobre alle 19, quando sarò di ritorno perché questa settimana non sarò in live, neanche la prossima, in quanto sono in viaggio per Singapore per il token 2049, l'evento più importante del settore in questo momento. Andrò principalmente nelle vesti di founder di Metal Swap, che ha appena annunciato un grandissimo rebrand e ve lo faccio vedere. Seguirò quelli che sono i trend più importanti e quello che si vive in questo momento a livello di sentiment nel settore e ve lo riporterò anche in questo webinar. Quindi vi invito appunto a registrarvi, per questo, questo Crypto Monday è più breve e lo registro, non di lunedì, quindi scusandomi se mi perdo le ultime notizie che possono arrivare appunto domenica o lunedì, ma sarò in viaggio, il viaggio è lungo. Intanto, proprio lunedì, arriverà la piattaforma annunciata da Donald Trump. Infatti così, un po' dal nulla, un video su X che sta diventando virale, fa vedere Donald Trump annunciare World Liberty Financial il 16 settembre. Non si sa molto di questo progetto, che dovrebbe essere comunque qualcosa legato al mondo DeFi. C'è solo un white paper che parla di come questo applicativo potrà consentire agli utenti di fare una custodia digitale su un wallet dei propri fondi, accedere a un sistema di credito, fare quindi prestiti oppure emettere prestiti. Vedremo quello che sarà già da lunedì e questo sta suscitando molto interesse ovviamente, vista la rilevanza di chi lo annuncia. Ma come vi dicevo, gli annunci sono stati tanti, in particolare per chi se lo fosse perso, anche ripostato personalmente questo annuncio, Metaswap, progetto di cui sono co-founder, annuncia il suo più grande rebranding, il primo rebranding della sua storia. Infatti, dopo l'annuncio dell'arrivo dei Perpetual, Metaswap non è più orientato solamente agli hedging contract, ai contratti di hedging tramite swap finanziari, ma aggiunge anche la funzionalità dei Perpetual. Perpetual che non sono ancora operativi a livello di contratti, è stato fatto un sondaggio tramite temp check, quindi tramite votazione per quanto riguarda l'approvazione della governance sui Perpetual e l'opinione, diciamo, di tutti i token holder su questo. È andata bene perché c'è stato il 100% di votazione positiva, questa è la temp check legata con la votazione 100%, 29 milioni di voti su XMT, legati all'opinione sul creare e lanciare un Perpetual tax su Metaswap. Questo comporta l'evoluzione di Metaswap a un sistema che non ha più un solo derivato, ma comincia a diventare una suite di derivati. Per questo motivo parlare solamente di Metaswap ormai è riduttivo e porta anche sulla cattiva strada. Tra l'altro, il termine swap è sempre stato frainteso con uno swap spot, cosa che non c'è mai stata, non c'è mai stato un DEX spot. E limitarsi anche solo nel branding ai metalli è limitante anche perché appunto in realtà il protocollo fa diverse cose, ci sono diverse funzionalità. Per questo motivo diventa a tutti gli effetti una suite che ha bisogno di un nuovo rebranding che lancia un nuovo messaggio e questo sarà appunto Denaria. Denaria è il nuovo branding e tutto ciò che seguirà avrà questo brand. Il tutto però deve essere ancora una volta appoggiato dall'opinione dei token holder. Questo vuol dire che in questo momento c'è un'altra votazione attiva, sempre su snapshot, sempre su Metaswap. Quindi trovate, se andate su snapshot, Metaswap per poter votare. E chiunque avesse degli XMT può andare su questa nuova temp check e alla domanda Should Metaswap be rebranded to Denaria? Può rispondere sì o no. In questo momento le votazioni sono già iniziate, ci sono stati già un po' di voti. Probabilmente nel momento in cui andrete su questa pagina sarà verso la fine, ma vi consiglio di votare se ancora non l'avete fatto perché c'è tempo fino alle 4 di pomeriggio, di lunedì, per esprimere la vostra opinione. E questo è il senso di essere un token holder di un token di DAO come quello di XMT. E la votazione è in questo caso off-chain, quindi essendo su snapshot verrà preso il quantitativo che avete nel vostro wallet, ma non c'è bisogno di spendere fee su Ethereum. Quindi basta firmare e votare con il vostro voting power. Un altro annuncio che arriva nel settore DeFi, se così possiamo classificarlo, è quello di WorldCoin. WorldCoin che ho coperto ampliamente con dei video, quindi ho spiegato cos'è, che si amplia anche al mondo solana, portando le identità digitali anche su questo tipo di ecosistema, tramite wormhole, quindi facendo questo tipo di bridging. È una novità interessante, sappiamo che il mondo WorldCoin è focalizzato principalmente all'ecosistema EVM tramite Optimism, ma si sta ampliando con le identità appunto anche solana. Questo è un annuncio importante che ha portato anche un riscontro, come abbiamo visto, sul prezzo del token. Altro annuncio che avevo già dato in precedenza, ma adesso arriva anche, diciamo, il lancio ufficiale, è l'arrivo del formato di wrapping di Bitcoin su Ethereum da parte di Coinbase. Che cosa fa Coinbase? Praticamente emette un token ERC20 su ecosistema Ethereum, quindi su EVM, in particolare su Ethereum e su Base, il suo layer 2, con quella che è a tutti gli effetti un'alternativa a Wrapped BTC, quindi un token che wrappa Bitcoin, lo rappresenta, è un gettone che rappresenta Bitcoin, rappresenta il suo prezzo su un altro ecosistema. Per ogni CB BTC c'è un Bitcoin su protocollo Bitcoin, che viene quindi messo in custodia e da quello si può emettere un token. CBTC è una novità interessante, visto anche che finora c'era solo, praticamente solamente, WBTC, ed è molto rischioso avere un solo token di questa tipologia, tra l'altro sta passando un periodo turbolento, potrebbe passare di proprietà, lo copriremo. In ogni caso, CB BTC è già sul mercato, ci sono già 1670 CB BTC circolanti, ovviamente il suo prezzo, quello di Bitcoin, quindi è l'equivalente di Bitcoin su rete Ethereum e su rete Base. molto interessante, soprattutto per tutti quei casi che utilizzano Bitcoin in DeFi. Quindi come si fa ad oggi ad utilizzare Bitcoin in DeFi? Tramite sistemi come questo, ovviamente si amplifica il rischio perché ci sono più strati, e questo non è un vero Bitcoin, questa è una rappresentazione, è un gettone, bisogna poi dare indietro quel gettone, come quando si entra in un casino. Si dà del cash all'entrata e si ricevono delle fiche, ecco, è come se fosse una fiche che rappresenta un valore di quello che si è dato in custodia per poi riprenderlo. E quindi però è molto utile perché poi può essere utilizzata all'interno di altri smart contract, come ad esempio WREPT BTC è stato integrato tempo fa anche all'interno di MetaSwap, appunto, e questa potrebbe essere una soluzione interessante da valutare se il mercato e se i volumi diventano rilevanti. Per questa edizione è tutto, ho cercato di concentrare le notizie più importanti, visto che comunque ci tenevo a fare lo stesso questo video nonostante lo debba fare appunto in anticipo rispetto alla giornata in cui lo rilascio. Vi ricordo di registrarvi a questo evento, che questo mercoledì non sarò in live su Coinsquare, ma la live ci sarà comunque, quindi seguite Coinsquare per ogni cosa, anzi vi consiglio innanzitutto di registrarvi all'evento su coinsquare.com al season per il webinar del 3 ottobre e per seguire tutto quello che succede su Coinsquare, seguire il canale ufficiale su X perché stiamo dando molto risalto ai contenuti su X, ci teniamo a farlo diventare un canale di informazione rilevante e qualitativo. Quindi vedrete molto impegno da ora in poi sul canale X, vi consiglio di seguire anche questo se non lo facevate già. Potrebbe essere un ottimo sunto di tutto quello che facciamo e anche per essere aggiornati su ogni cambiamento, ogni opportunità e ogni evento proposto dal gruppo Coinsquare. Vi ringrazio per l'attenzione, non sono sicuro di riuscire a registrare il Crypto Monday della prossima settimana, ossia quello del 23 settembre. Per chi dovesse essere il 26 e il 27 settembre a Milano e TH, e TH Milan, ci vedremo lì. Visto che considero questo evento uno dei migliori per l'ecosistema Ethereum anche in ambito internazionale, si è riusciti a fare un evento che ha un respiro internazionale anche in Italia. Quindi ci vedremo a questo evento, al mio ritorno dalla trasferta appunto di Singapore e poi dopo questo evento faremo una grande sintesi di tutto quello che ho raccolto proprio lunedì 30 settembre, dove avremo finalmente il risultato su quello che sarà successo a livello di tagli sui tassi e potremo capire un po' meglio quello che potrebbe essere il trend per il finale dell'anno. Si entra nell'ultimo trimestre, nel quarter for del 2024. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, ci teniamo aggiornati principalmente su X, sia canale mio che quello Coinsquare. Vi auguro una buona settimana.